Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Nella puntata di Verissimo del 29 settembre 2024, Silvia Toffanin ospita Andrea Zenga e Rosalinda Cannav, coppia nata durante il Grande Fratello e ora genitori di Camilla. L'intervista rivela la loro storia d'amore, culminata con un anello regalato da Zenga a Cannav come ringraziamento per la gioia di diventare genitori. La piccola Camilla è al centro dell'attenzione, portando gioia ma anche cambiamenti nella vita della coppia. Zenga racconta emozionato di aver assistito al parto e di essere totalmente innamorato della sua bambina. Il massaggio del papà sembra essere il rimedio miracoloso per calmare i pianti della piccola. Cannav esprime gratitudine per la sua famiglia, nonostante le difficoltà incontrate nella vita. Zenga le rinnova il suo amore e promette di darle sempre il meglio di sé. Silvia Toffanin, commossa, suggerisce a Zenga di fare una proposta di matrimonio della sua bambina. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!